Il Campobasso ha indetto per domani pomeriggio una conferenza stampa alle ore 18 presso la sala stampa di Contrada Selvapiana. La dirigenza intenderà fare il punto della situazione nella circostanza di domani. Non si esclude che si parli pure delle condizioni del terreno di gioco restituito in pessime condizioni dall'Isernia e dall'Olimpia Riccia, società che non c'entrano nulla con la decisione di giocare nel capoluogo, così come è esente la responsabilità pure la stessa Figgi Cimolise. Vullo ha concesso ai suoi due giorni di riposo dopo l'amichevole di sabato scorso a Ranghi Misti. I lavori in vista della fermana riprenderanno domani. Lo stesso tecnico Rosso Blu ha sancito come opportuna ed utile la pausa del campionato di quarta serie. Ha bisogno la squadra di tirare un po' il fiato quando riguarda la questione psicologica di essere lì sempre concentrati alla gara, subito la gara, subito la gara. Questa settimana abbiamo lavorato invece più che altro tantissimo sulla questione fisica per avere un richiamo perché poi non c'è più spazio per poterlo fare e poi anche sulle fasi tattiche che a noi qualche cosina ancora ci interessa di andare a toccare. Hanno risposto molto bene. Alla ripresa delle ostilità il Campobasso sarà ospite della fermana, squadra che unitamente proprio al Campobasso e alla San Benedettese, ci riferiamo al girone F della serie D, si può freggiare di trascorsi anche in serie B. I canarini hanno passato solo un anno tra i cadetti, esattamente il 1999-2000, guidati da Ivo Iaconi, poi subito precipitati in Lega Pro. Illustri alcune vittorie contro Napoli, Genova e Atalanta. Intanto il tecnico del Campobasso spiega che sta lavorando da 25 giorni circa questa parte maggiormente sul reparto di centrocampo. Sì, sì, noi stiamo lavorando tantissimo su quel settore lì, che per noi, per noi, lì ha di massima per tutti, però per quanto mi riguarda è la frase nevralgica della squadra, di chi fa una partita di calcio, ritengo che è il furco del gioco sia in fase offensiva che difensiva, quindi lì noi dobbiamo toccare e cercare di trovare il meglio che può essere nostro per poter far funzionare meglio le due fasi, sia quell'offensiva, ma non dimentichiamoci che ci sta quando anche gli altri hanno il pallone, quindi dobbiamo obbligatoriamente fare tutte e due le fasi. Due gestioni diverse, Farina e Vullo, altrettanti credi tattici differenti. Il neo allenatore Rosso Blu sta inculcando le sue idee alla squadra, che sta gradualmente metabolizzando delle novità di gioco importate dal trainer di Favara. No, no, la squadra recepisce, perché questi sono, qua ci sono giocatori che hanno già giocato prima di me in categorie anche superiori, quindi basta andargli a toccare il tasto della pianola, che loro cominciano i vari Vitoni, lo stesso Marenucci, vedo anche bene molto Fazio in questo contesto, si sta mettendo a disposizione, potrei fare anche altri nomi, però in linea generale sono ragazzi che se li vai a toccare nel punto giusto ti rispondono. E io da questo punto di vista devo dire che sto avendo abbastanza soddisfazione per quello che mi fanno vedere, sia durante le gare che durante l'allenamento, come attenzione, come voglia di cambiare atteggiamento per quanto riguarda quello che hanno fatto in precedenza. Che sia giusto o sbagliato io non sono qua a sindacare questo, io parlo dal mio punto di vista, mi stanno dando buona risposta per quanto mi riguarda. E' chiaro che ci dobbiamo ancora, i tempi, i ritmi, i collegamenti non sono mai oleati e non saremo mai contenti, secondo me è un principio che io faccio mio, quello di non essere mai contento di quello che si sta facendo.